Buongiorno cuori, eccomi qui con un nuovo video creazioni, questa volta tutti orecchini con il nuovo materiale che ho acquistato e che vi ho mostrato in parte in un video passato. Questi sono gli orecchini di cui vi accennavo in quel video. Come dicevo, questo materiale è ottone, quindi resta inalterato nel tempo. Allora, questo lo appoggiamo e vi mostro, ve ne mostro solo uno, eccolo qua, guardate. Vediamo se riesco a metterlo un po' a fuoco. Eccolo qua, ha questa chiusura di sicurezza. Eccola qua, che vi assicuro morbidissima, come vi dicevo. E con questo cristallo, guardate che bello, guardate che sfumature. Poi ho creato degli orecchini ancora altrettanto particolari, ma questa volta sempre con questo tipo di orecchino. ho creato un po' a fuoco in ottone e una foglia in madreperla blu. Ho lavorato con la tecnica wire. Ecco qui. Qui vedete. Li vedete tutti e due. Guardate. Eccoli qua. Poi, i prossimi che arriveranno sono degli orecchini grandi, come va la moda quest'anno. Molto grandi. Lavorate con filigrane e plexiglass. Allora, questa invece, insomma, sì, è lungo, ma non è, la filigrana non è grandissima, guardate. Vi ricordate nel video acquisti questo, questo pendente? Vi ho detto che l'avevo già usato, infatti l'ho usato in questo paio di orecchini e in uno ancora più semplice, con questa filigrana dorata. E questo è il suo compagno. Eccoli qua. Questi sono gli altri, sempre con quella goccia rossa, questi sono un po' più piccoli. Eccoli qua. Io li trovo magnifici. Ma sapete, io creo con tanto entusiasmo e tanto amore, quindi è normale che io trovi magnifico tutto quello che creo. Allora, questa è una super filigranona. Eccola qua. Guardate, guardate, guardate che bello. Guardate. Con questa goccia di cristallo. Eccolo qui. Bellissimo. E questo è il suo compagno. E adesso passiamo ai tre in plexiglass. Vi faccio vedere solo uno, poi l'altro l'ho tenuto riposto nel sacchettino perché dovete sapere che io ogni creazione la ripongo separatamente, perché non si rovini, perché resti al meglio. Questo è un plexiglass. E' un plexiglass specchiato dorato. Guardate. Ah, mi vedo io. Si vede la macchina. Vediamo, cerchiamo di spostarci, di allontanarci, perché non si veda. Però questo vi dimostra che è specchiato, insomma. Eccolo qua. E il suo compagno. La goccia è una goccia che non vi ho mostrato. Era in mezzo ai cristalli. Non so se, vediamo se riusciamo a metterla a fuoco. E' un marrone dorato stupendo. Stupendo. Non è nera. Ma... E questo è il suo compagno riposto nella sua confezione di protezione. Eccoli qua. Poi, questo è il cuore. Poteva mancare il cuore? No. Ah, ci sono anch'io. No, eh? No, eh? Insomma, guardate il cuore. Guardate quanto è bello. Vediamo, ecco. Devo metterlo giù così. Questo cristallo è nero. Guardate che bello. Ma guardate che bello questo cuore. E questo... Ah... È il suo compagno. Se riesco a sbrogliarlo delle altre carte di protezione. Eccolo qua. E per finire... E per finire... Il giglio. E io questa volta lo metto giù. Vediamo se riuscite a vederlo. Eccolo qua. E questa è la pietra dura di quei fili di pietre dure che ho comprato. Un quartzo sfumato. E questo è il suo compagno. Poi verranno riposti tutti assieme. Con attenzione e amore. Bene. Per oggi ho terminato. E ho approfittato del sole. Sperando appunto che il tempo regga il più possibile. Voglio augurarvi una Pasqua fatta di amore e di speranza. Tanta speranza e di forza. Anche tanta forza per quelle persone che stanno passando un momento difficile. Un momento o di malattia o di dolore. Appunto di speranza. Ma soprattutto una Pasqua con cui il cuore abbraccia tutti i familiari. Tutte le persone che soffrono. Ma anche le persone che hanno un cuore d'oro. Ma tutti tutti. Auguri. 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 E come ho detto negli altri video. Mi potete trovare nella mia pagina Facebook. I colori della fantasia bijou. Oppure scrivermi un messaggio privato qui in YouTube. Se mi piace. Se vi piacciono i miei video. Se vi piacciono le mie creazioni. Cliccate mi piace dai. E iscrivetevi al mio canale. Ciao. E ancora tanti tanti auguri.